Liberi.tv 21 luglio 2013, siamo alla Messia Terme vicino all'aeroporto al Passaparola e oggi si è formato, è nato il centro di iniziativa locale per la Calabria dell'associazione Radicale Certi Diritti. In mia compagnia ci sono gli organi eletti, ovvero Marco Marchese il segretario, Federico Cerminara il nuovo presidente, alla mia sinistra invece abbiamo Andrea Gargano il tesoriere dell'associazione del centro di iniziativa locale a Peranato e poi abbiamo Armando Presta che è il revisore dei conti. Adesso iniziamo subito con la prima domanda che mi urge fare che è quella, ma come mai vi siete decisi a fondare questo centro di iniziativa proprio qui in Calabria? Ce n'era bisogno? Passiamo la parola a Marco Marchese, segretario. Assolutamente sì, questo qui è il percorso, è un percorso che è nato molti mesi fa per un verso e per altri versi già alcuni anni fa. L'associazione Radicale Certi Diritti ha operato da sei anni a questa parte in Calabria in modo informale con dei punti di riferimento, con iniziative spot, però con una certa continuità collaborando con le altre associazioni, con l'Archiei, con Equality, con Omocrazia, con Polis Aperte. Adesso, siccome negli ultimi mesi si è accelerato il processo di aggregazione degli attivisti, siamo giunti, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto dell'Associazione Radicale Certi Diritti, a fondare il centro di iniziativa locale. Per cui a costituirci come associazione di promozione sociale per promuovere non soltanto tutte le iniziative che vengono promosse, quindi l'eco in Calabria di ciò che l'Associazione Radicale Certi Diritti propone al Paese Italia, ma anche un'autonomia propria, tanto è vero che abbiamo, ancora prima di costituirci formalmente, fondato insieme alla CGL Cadanzaro Lamezia, abbiamo messo in piedi un'importante iniziativa e abbiamo messo in piedi un osservatorio sulle politiche di genere e le pare opportunità. Bene, grazie Marco. Adesso passerei la parola a Federico Cerminara che nel suo intervento durante la mozione a proposito del dibattito generale parlava di ascoltare, parlava di risorse umane e non soltanto di risorse economiche, parlava logicamente dei diritti civili e del suo impegno che lungo 12 anni ha visto sicuramente l'evolversi del movimento LGBT calabrese e poi alla fine ha aggiunto anche un asterisco. Chiediamo proprio a Federico questo asterisco e questa accoglienza di cui parlava, i diritti civili e quel che ne è conseguito. Io credo molto alla forza delle parole, è importante utilizzare le parole giuste perché dalle parole poi derivano le azioni, quindi parlare di LGBT asterisco equivale a dire che quando parliamo di orientamenti o di identità di genere è opportuno utilizzare sempre dei termini che lasciano aperte delle possibilità. Come mi ha insegnato il professore che esiste una differenza tra infinito e illimitato. Infinito è un concetto teorico, illimitato rappresenta uno spazio di potenziali possibilità, quindi noi siamo interessati a considerare tutto ciò che potenzialmente si può presentare in futuro in termini di diritti da tutelare. Tant'è vero che a me sta anche a cuore parlare di promozione della cultura, anzi delle culture della pluralità. Dobbiamo imparare a parlare di orientamenti, di identità di genere al plurale, di famiglie, di sud perché è importante spostare la prospettiva da una visione parziale che è quella del qui ed ora, cioè di quello che una determinata società considera in termini di diritti in un determinato territorio che, nello specifico dell'impegno della nostra associazione è la Calabria, ad una visione più ampia che tenga conto di tutte le varie possibilità e di ciò che in futuro ci possiamo dover trovare ad affrontare perché la nostra associazione altro non vuole fare che dare risposta a dei bisogni. Quindi un'associazione che sia capace di partire proprio dall'ascolto, ascoltare il territorio per cercare di intercettare i bisogni e dare risposta ai bisogni individuati in modo tale che la vita delle persone possa essere migliorata qualitativamente. Il miglioramento della vita delle persone LGBT asterisco consente un miglioramento della qualità della vita dell'intera società. Perfetto. Io ti ringrazio Federico. A questo punto chiederò ad Andrea Gargano che nella veste di tessoriere ha anche altre competenze perché vorrei ricordare che Andrea Gargano per l'Associazione Radicale Certi Diritti a Carattere Nazionale si occupa dell'aspetto della comunicazione. Quindi quanto è importante la comunicazione per un'associazione in Calabria ma anche a carattere nazionale e soprattutto cosa pensi che si può fare ancora per far conoscere la realtà LGBT asterisco come diceva Federico Pocanzi, in Calabria e fuori dalla Calabria? Per rispondere alla prima domanda, la comunicazione è sempre importante. In ogni caso fare della comunicazione è necessario, è essenziale per qualsiasi associazione. In particolare nella nostra cultura calabrese che ancora non c'è per nulla l'affermazione né di una comunità né l'affermazione di tematiche LGBT. Si parla ancora del tema LGBT come se fosse un tema alieno avulso dal contesto sociale e per cui è necessario e fondamentale fare non solo informazione ma addirittura istruzione. Quindi proprio partire dai fondamentali partire dall'istruzione già dalla scuola primaria fino all'università. Quindi formare elementi che la cultura e la diversità sono ricchezze da tutelare oltre che dei valori per tutti quanti e che possano espandere la persona, l'individuo oltre i propri confini e possano arricchirlo indefinitamente. Quindi è necessario fare comunicazione e istruzione. Perfetto. A questo punto concludiamo questa breve intervista con Armando Presta che è il nuovo revisore dei conti del coordinamento. Centro iniziativa, ok, sapevo che comunque avrei sbagliato ma me lo ricorda Marco Marchese, il nuovo segretario. È stato all'interno del dibattito generale, è stato ricordato l'impegno anche da parte tua nel volantinaggio che si è tenuto proprio a proie a mare in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, l'omotransfobia. Abbiamo visto che in quella determinata occasione davanti alle scuole si sono rivolti a voi e anche a te ragazzi e insegnanti. Quanto è importante far conoscere questa tematica ovvero l'omotransfobia ma l'accoglienza in generale di tutte le persone che si sentono discriminate anche nelle scuole e nelle istituzioni? Il primo passaggio effettivamente è proprio verso chi va a creare la cultura perché molto spesso ci troviamo davanti a professori, a maestri, maestre, maestri che inculcano delle ideologie sbagliate ai bambini. Non a caso è stato scelto prea a mare in quanto è risaputo che ci sono professori che fanno effettivamente un maluso del proprio potere. Quindi noi abbiamo voluto portare la nostra testimonianza in quanto abbiamo portato una nuova ottica ai ragazzi. Infatti si sono stati molti a fare domande, a chiedermi, anche a me espressamente, tu non sembri gay, quindi c'è anche un'ideologia rispetto allo stereotipo di gay che andrebbe, come dice sempre anche il nostro presidente, decostruita perché è proprio quella che poi crea la discriminazione della nostra comunità. Io a questo punto concludo questa piccola intervista, mi auguro che ce ne siano altre anche perché Liberi TV è disponibilissima al confronto, un po' come il nascente... Com'è che si chiama? Centro di iniziativa... no, no, lo sapevo adesso, Centro di iniziativa locale certi diritti per la Calabria. Ricordiamo anche che comunque tutto nasce dalla voglia di mettersi in gioco diciamo che comunque si è disponibili su Facebook, penso che ci sia anche una pagina Facebook quali sono i riferimenti? Lo chiedo al presidente, ne nasceranno altri riferimenti a cui rivolgo? Noi ovviamente utilizzeremo Facebook ma credo che la persona più indicata a parlare di comunicazione è il nostro tesoriere che è tesoriere ma lo investiamo anche di questa delega nella comunicazione perché vogliamo raggiungere a 360 gradi tutte le persone che si vogliono avvicinare quindi i giovani sono più avvicinabili attraverso una pagina Facebook Perfetto, esiste già la pagina Facebook? Allora esiste già da diverso tempo la pagina Facebook che ha certi diritti tutto attaccato Calabria su Facebook, la trovate facilmente però non solo, nei nostri progetti c'è anche l'idea di costruire un vero e proprio sito internet e sul centro di iniziativa locale, sull'osservatorio sulle pari opportunità e le politiche di genere c'è già presente una pagina pubblica Facebook che si chiama proprio Osservatorio Pari Opportunità Benissimo, qui dalla Mezzia, dal Passaparola è tutto io auguro una buona serata, un buon proseguimento di serata a tutti quelli che sono qui come pubblico ma soprattutto un buon lavoro a Marco Marchese, segretario Federico Cervinara, presidente Andrea Gargano, tesoriere e Armando Presta, revisore di conti di questo centro di iniziativa locale dell'Associazione Certi Diritti per la Calabria e che magari, chissà, qualcuno si voglia iscrivere già da subito lo faccia Grazie ancora e buona serata Grazie a tutti